Musica In realtà uno di noi ha portato in questa esposizione un'idea, un'emozione sul futurismo Per i miei sono l'ultimo che si è occupato del futurismo tra i critici d'arte e tra le storie E forse ho avuto l'idea migliore di partecipare a un'esposizione in cui si vanta, secondo me, l'arte di Marinetti Io credo che la cosa più straordinaria di tutto il futurismo sia nei manifesti di Marinetti Le altre cose sono anche interessanti, ma perché sono curiosa? Mi credo a tutti dimostrarci affannosamente che i pittori futuristi vincono bene quasi come i cubisti Quasi come i costitivisti, quasi come i cubi futuristi In realtà invece io ritengo, in un secolo come il ventesimo, come diceva in un secolo di oggetti e non di oggetti Sveglia la produzione, l'idea del manifesto Di magnete che buca, come dico, l'immaginario collettivo Crea un inciamole e la disattenzione sociale di una società che si avvia a destra di massa E attraverso questi proclami, questa militarizzazione, la parola come io dico Ad alto volume, esce ad intercettare e sviluppare il tema della comunicazione La grande beffa sta in questo Perché se noi guardiamo tutto quello che è successo nel ventesimo secolo E ci fermiamo con attenzione sulla produzione dei manifesti futuristi Con le date che corrono, fermandoci anche all'inizio degli anni 20 Ci accorgiamo che sono manifesti che percorrono tensioni che si sono sviluppate nel dopoguerra Nel secondo, fino al 68 Io credo che il 68 abbia un incorcio futurista Perché? Perché il futurismo tenta una estetizzazione del quotidiano Arriva a ipotizzare anche un'estetizzazione della guerra Quindi lì anche abbiamo qualche dubbio Ma sicuramente questa estetizzazione del quotidiano Che arriva, come dico, fino alla via, alla cucina futurista La moda, la radio Non ci sono ambiti della vita quotidiana Che il futurismo non tocca con i suoi manifesti Con un'attenzione, come dico io di Marionetti Tra nervosismo e superficialismo Ripeto, come avviso il futurismo è il movimento più nervoso del ventesimo secolo E Marionetti è la caffeina d'Europa Sicuramente, come lui stesso dichiarano Quando dico superficialismo non è superficialità Ma in quella capacità scorrevole Le dice, parlava lì Che imprime velocità La teatralità di Marionetti è performativa Marionetti si capisce che continuamente Con la sua voce stentoria Ha un dono di veritoria affermazione Fino alla tautologia Lui veramente vuole bucare Oppure, come ho detto, massaggiando il muscolo atrofizzato dallo spettatore E direi che questa mostra Allestita veramente per gran merito da questa famiglia Da Manilene e da Vincenzo Che sono Romina e Albano Nell'architettura Ma se è un complimento Romina e Albano Le butta via Me ne ce l'età mi sono basti insieme Sì Diciamo che l'allestimento È sbagliato il cavallo In questo modo È una scrittura espositiva Dove gli architetti questa volta Non si sovrappongono Col buon gusto Diciamo allestitivo Ma hanno interpretato I concetti di simultaneità Di sconfinamento Di contaminazione Insomma Qui in questa mostra Veramente lo spettatore è al centro Dell'esposizione Poi c'è stato Che scrive i testi E chi scrive la musica Abbiamo Daniele Robato Alla batteria Questo vuol dire Col pianoforte Che credo sia il più grande Interprete Della musica fotografica Che si sta arrivando Internazionale Francesca Rappresenta se stessa Vuol dire che la famiglia Ha portato Ha apportato Non solo documenti Fotografie Famigliali Inedite Ma anche Una sua lettura Personale Assolutamente Anche originale Del futurismo E senza che Per la vita Ci sia Da questo testo Di Livi Che fanno pensare Che c'è famiglia Cioè che è il nonno Assolutamente C'è Direi anzi Una Tre pita a distanza Non tiepita Tre pita a distanza E poi C'è la velocità Anche il cielo di macchina Insomma E il miglior amico Del cuoco Mio grande amico Grande collezionista Ha realizzato un libro Molto bello L'abbiamo fatto insieme E faremo un altro Adesso anche Sulla musica futurista Voglio ringraziare L'Electa E in particolare La mia amica Che io Ho torchiato Ben bene Muoi a Sansone Con tutti L'Electa E' una lettura Che si conclude Il mio avviso No Io mi sono fatti creati Non voglio passare I fatti miei Direi anzi Mi ne è che non si sa Zedema Sfine Pure l'Electa Zedema E infatti Devo dire Che tutto il gruppo di Zedema Ha lavorato Con voi No? L'allestimento Certo Noi vorremmo tanto E Umberto l'ha detto Che questa mostra Viaggiasse Perché La cosa bella Sfine Proprio come Marconi Che io prego E se c'è Dove le luci Di questa mostra Nei cinque continenti Questa è E' la realizzazione Delle profezie Di camionette Del futurismo Se riusciamo A umanizzare La tecnologia Portarla fuori Dal suo feticismo E farne Una protesi Illustrativa Uno dei più grandi Movimenti Da valutare Del ventesimo secolo Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti